La sinergia tra amministrazione e GAL, a quali risultati ha portato nel corso della sua esperienza di amministrazione qui a Turi? Buonasera a tutti, oggi siamo qui a parlare appunto di strategia di sviluppo locale nei prossimi anni che ci porterà appunto fino a 2027, ma noi come città di Turi insieme al GAL abbiamo portato a termine due bei progetti, uno riguardante una riqualificazione di un'area appunto a finalità turistica e l'ultima insieme a tutti i comuni del GAL abbiamo acquistato un pulmonino elettrico che collegherà appunto tutti i comuni del GAL sud-est barese appunto per collegare tutte le nostre città e dare la possibilità a tutti i turisti di scambiarci appunto le nostre bellezze e appunto dare questa possibilità a tutti quelli che sceglieranno le nostre città.